A cosa serve un organigramma aziendale? L'organigramma è un metodo utilissimo per illustrare in modo semplice la struttura di un'azienda, consentendo di capire chi fa parte dell'azienda stessa e quale ruolo svolge. Questo strumento organizzativo permette di comprendere il funzionamento di un'azienda fornendo le informazioni necessarie al coordinamento delle attività e dei progetti da realizzare. Un organigramma raffigura la catena di comando e i rapporti dei vari settori offrendo il vantaggio di poter distribuire i compiti tra i lavoratori dal più grande al più piccolo, favorendo la crescita dell'azienda e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Consente infine di evidenziare anomalie nell'organizzazione aziendale permettendo così di migliorarla e ottimizzare i ruoli e renderla più efficiente. Creare un organigramma chiaro e renderlo noto a tutto il team il primo passo per ottenere chiarezza in azienda. Perché un'azienda confusa e cui non sono chiari i livelli gerarchici, gli obiettivi, i riporti e le responsabilità è l'anticamera del caos e dove c'è il caos non ci possono essere che basse performance, incompetenza e mancanza di responsabilità. Viceversa una struttura aziendale chiara e dettagliata consente di ottenere ordine, disciplina, buone performance e lo sviluppo delle competenze. Ma tutto ciò non basta. Per approfondire ho creato un video dedicato a cui si può accedere cliccando sul link qui sotto. Ci vediamo all'altra parte, ciao!